Gomme nuove che sono rotte dalle buche. Questa è una gomma nuova rotta dalla bucha? Sì, si vede. Buche, alcune anche molto grandi e profonde, soprattutto nelle arterie più trafficate. Le segnalazioni arrivano da ogni angolo del comune di Arezzo, dal centro cittadino alla periferia. Una situazione aggravata anche dalle piogge delle ultime settimane. Dipende dalla stagione, dal tempo. Quando piove effettivamente aumentano gli interventi. Dobbiamo ovviamente aumentare anche le buche. Quello, è normale, è rilazionato. L'amministrazione comunale per fraffronte, soprattutto alle situazioni più critiche, adesso è pronta a mettere in campo un piano di azione straordinario anti-buche. 3 milioni di euro messi a disposizione. I lavori interesseranno circa 35.000 metri quadrati di strade. In parte saranno destinati per la manutenzione straordinaria, via Tarlati, un esempio, un'asse importante che verrà completamente rivista, come via Anconetana, via Trento Trieste, via Michelangelo, via 10 dicembre, via De Gasperi. Quindi interventi che andranno a ripristinare quelle che sono le criticità evidenti che appunto sono nella nostra viabilità. 900.000 euro invece si aggiungono ai già stanziati 500.000 per i lavori di manutenzione ordinaria. Dove abbiamo riscontrato delle criticità che prevedono il ripristino del tappetino di usura dell'asfalto, appunto andremo a risolvere direttamente con la nuova asfaltatura. La prima parte degli interventi prenderà avvio entro l'estate. Con alcune asfaltature partiremo nel mese di luglio, mentre altre nel mese di settembre-ottobre, in maniera tale da riuscire a dare una risposta entro i termini anche che poi garantiscono una corretta posa dell'asfalto, perché come sappiamo bene, nei momenti di maggior caldo e di maggior freddo, è bene non fare certi tipi di intervento, perché daranno una risposta anche più critica rispetto a quelle che sono le esigenze, e anche una risposta in termini di tempi minori.